Partiamo dalla cerimonia di premiazione dei poliziotti in servizio, l'importanza di questa cerimonia? È importante perché abbiamo premiato, come vedete, una trentina di colleghi per diverse operazioni di servizio, qualcuna più importante, più grande anche come numeri, che relativa all'immigrazione, che ha visto coinvolti 32 persone arrestate di qualche tempo fa, altre attinenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, il micro spaccio, il macro spaccio e altre ancora attinenti interventi per furto, per rapinatori, in qualche caso interventi di soccorso, il salvataggio di una persona che voleva compiere un suicidio, si voleva suicidare. Questo testimonia di tanta attività che viene svolta sul territorio e sono premi che in gran parte abbiamo già distribuito quest'anno sia alla Festa della Polizia che poi il 29 di settembre a San Michele Arcangelo, ma erano tanti quest'anno che non potevamo allungare troppo le cerimonie e quindi abbiamo fatto questo supplemento per questa occasione. Quindi il grazie va ai poliziotti e alle loro famiglie che spesso partecipano al loro sacrificio non avendoli presenti a casa per giornate interne.